Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it Campagna a cura di autorità garante della concorrenza e del mercato e Ministero dello Sviluppo Economico.